Potremmo portare il corri... il... Vieni qua d'accanto! Mi tocca a me! Marti, ben corto o si? Si! Annotare... Ma è nata la volta... Si è rotto, mi ha capito... Si è sbroken, ha fatto quello, perciò... No, ma lo diamo, lo diamo! Eh no, ti sto stavano ritendo... Ti sto stavando, salgo! Almeno l'incendio continua a divampare... La roba... No, non chiudi, devi fare corretto, lo vede! Asci, chiudi questa qua! Qua devi chiudere! Questo devi chiudere! Questo devi chiudere! Che l'ho bella da... Cioè, il risale si scivano... Ho spoluto di si... No, lei la mi buttava a terra e... Non mi azzavo più! Sai perché questo l'ha suonato? Perché hai sentito questa cosa che sta suonando pure qua? Capito? Quello, l'hai sentito questo del corridoio? Lo... Lo... È questo quì... Grazie a tutti.